Fujitsu, società leader nel mondo IT a 360 gradi, opera da molti anni nel mercato retail e supporta molti retailer in Italia e all'estero con i propri prodotti, servizi e soluzioni. Vediamo sul mercato adesso il lancio di Marketplace, che è la nuova suite applicativa a supporto dei retailer, del punto vendita, della gestione e conoscenza del cliente per quanto riguarda il customer relationship management, di tutta la parte di order management e di inventory management. Oltre a questo Fujitsu ha appena lanciato sul mercato una nuova versione di self-checkout chiamati Genesis 2, che renderanno molto più semplice e veloce ed efficace l'esperienza del cliente nel punto vendita.